Buonasera a tutti, approfitto anche per dirvi che molte devise rosse che vedrete stasera sono tutti esaminati delle bossi. Le bossi hanno ramificazioni a russa. Noi stiamo costruendo una sede nuova, quindi i fondi servono, ma vorremmo utilizzare questi soldi da sera per acquistare dei manichini. Servono per le lezioni che facciamo ormai 10 anni alle scuole bossi, forse anche di più, per il primo soccorso, quindi per i ragazzi perché dopo un po' di anni i manichini, nonostante appunto vengano custoditi, si romano. E poi comunque appunto verranno devoluti anche pensi per il don, però non so, il don, ecco. Il don, ecco. Mia Presidente, se vuoi venire, non vieni.